Allora, ieri sera si è svolto il pre-gara dell'Hardone Classic UK e la top 2, come era facilmente pronosticabile, è composta da Adi Chupan e Samson Dauda, con gli altri atleti del Force Callout che sono stati John De La Rosa e James Hollingshead, mentre Akeem Williams è rimasto escluso dal Force Callout, molto inaspettato, povero Akeem. Allora, primi due, Adi e Samson. Partiamo da Adi. Allora, io Adi onestamente l'ho visto meglio dell'Hardone Classic o Aghi due settimane fa, quindi l'ho visto ancora migliorato perché l'ho visto veramente super pieno, aveva i muscoli pienissimi che a momenti esplodevano, specialmente nel front, e in più l'ho visto anche un pochettino un po' più tirato. Ho notato una cosa, delle luci o anche del colore degli atleti, è che praticamente tutti, quelli con la pelle un po' più chiara, risultano un po' acquosi e appannati nell'upper body, non nelle gambe ma più che altro nell'upper body. Questa cosa l'ho notata anche nel Classic, tipo su Wesley Visers, infatti pensavo che fosse un pochettino acquoso nell'upper body, però poi ho notato che quasi tutti quelli più chiari sembrano acquosi nell'upper body, quindi mi sa che c'entra il colore, magari hanno messo un colore un po' più spesso e fa risultare gli atleti un po' più accosi. Comunque Aghi, comunque la forma l'ha portata, è arrivato tirato un pelino, un po' di più di due settimane fa con una pienezza spaziale. Samson, allora su Samson c'è un bel po' da dire, allora prima gara senza Milo Sasarcev, la B-Quick gliel'ha fatta sua moglie, allora Samson si è migliorato in definizione. Lo vedo più tirato rispetto a due settimane fa, però comunque non è ancora a livelli di Adi. Un'altra cosa che ho notato però è che secondo me Samson ha perso le gambe, ha i quadricipiti molto svuotati, sono più definiti, più separati, ma sono più vuoti, sono molto più svuotati e non sono più esplosivi come lo sono sempre stati. E vedere Samson flat, vuoto sul palco è veramente raro, perché di solito lui arriva sempre pieno sia nell'upper e nell'overbody, ovviamente con la sproporzione dell'overbody che è più grande, però in questo caso Samson è arrivato vuoto secondo me, di più nelle gambe e le ha perse molto, sia sul front che di lato. Sono più definite però comunque sono piccoline rispetto al solito e ho visto un sacco di commenti su Instagram dove in tantissimi danno la vittoria a Samson perché è più tirato, ma io onestamente questa vittoria non la vedo, secondo me è una vittoria ancora schiacciante di Adi. Samson è un pelino più tirato, però vince sempre con le due pose laterali, il resto le vince sempre Adi, tutte, frontale, back, addome e most muscular. Ecco qua, qua nel front double bicep si vede molto che Samson ha perso le gambe. Se vi ricordate lui ha sempre avuto quel quadricipite stondato, spanciato, che faceva proprio una bella curvatura sia nel quadricipite sinistro che piegava e anche in culo destro, mentre ora questa spanciatura non c'è più e l'upper body risulta più grosso del lower body, che è un paradosso perché ha sempre avuto il problema contrario, però purtroppo qui Samson ha perso le gambe. È più tirato però comunque non lo vedo superiore rispetto ad Adi, vedo sempre Adi imbattibile. Purtroppo Samson dalle luci non rende tanto perché è molto scuro e le luci anche esse sono molto scure, mentre nei video di altissima qualità Samson si vede meglio, però anche lì si nota che le gambe sono belle vuote e che Adi è superiore. Allora, quindi secondo me vincerà Adi e secondo arriverà Samson, terzo metto John Della Rosa, che secondo me è migliorato di pochino rispetto a due settimane fa, è arrivato ancora un po' più tirato e lo vedo davanti a Olinshed per una migliore componente fisica. Tralasciando la condizione, John è più completo di James, è più rotondo ed ha anche delle migliori masse rispetto a James. Quindi vedo John davanti a James e James a questo punto quarto. E James l'ho visto uguale a due settimane fa, forse un po' più tirato, però non di tanto. A chi Williams mi ha un po' deluso, me l'aspettavo meglio, ho visto un video di alta qualità della sua posing routine dal basso verso l'alto purtroppo. Era quel video, non l'ho visto bene, anche lui l'ho visto un po' acquoso sia nell'upper e nell'overbody, anche un po' vuoto. Ho trovato solo quel video, non ho trovato un video della sua posing routine frontale come questi video, quindi non so realmente come ha Kim, però da quel poco che ho visto mi sembra vuoto e acquoso purtroppo. Povero ha Kim perché purtroppo non è costante. Dunque ricapitolando vedo Adi primo, secondo Samson, terzo John e quarto James Hollingshead. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere chi secondo voi vincerà l'Arnold Classic UK, se sarà ancora Adi Ciupan a riconfermarsi su Samson Dauda o il contrario, se sarà Samson Dauda a battere Adi, fatemelo sapere. Vi chiedo un like e un commento come al solito e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.